una buona giornata a tutti o buona serata a seconda di quando vedete questo video a tutti gli amici di milanello in tutta italia in tutta europa in tutto il mondo iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto oggi parliamo di calcio mercato ho sintetizzato nella grafica che avete visto all'inizio che vi riproporrò magari anche alla fine un possibile 11 di ragniche per la prossima stagione partiamo dal presupposto che per quanto ci riguarda sarà proprio ragniche anche negli ambienti di mercato insomma risulta che il milan stia già lavorando per creare una squadra immagine e somiglianza del tecnico e dirigente tedesco che dovrà avere appunto questo doppio ruolo non ha la pretesa di essere una formazione scientifica anche perché è ancora presto però abbiamo raccolto un po di rumors di mercato un po di pareri di spifferi e abbiamo messo giù questo che è anche un po un giochino se vogliamo con delle basi di verità soprattutto per quanto riguarda la difesa e il centrocampo confesso che fare la tre quarti e l'attacco è stato un po più complicato però ecco è una formazione tutto sommato credibile voglio sapere poi che cosa ne pensate ve la riassumo importa non donnarumma perché secondo me sarà ceduto per non perdere la zero tra un anno e perché non lì si potrà proporre un rinnovo con l'aumento importa meret diciamo che una parte dei soldi che arrivano da donnarumma vanno investiti per il cartellino di meret ma si risparmierebbe molto l'ingaggio con donnarumma che prende molto 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 di più rispetto a meret quindi meret importa però ci sono anche altre opzioni a destra nella grafica ho messo emerson giocatore di 21 anni del betis proprietà però barcelona in prestito al betis prestito biennale che ha fatto molto bene nell'attuale liga con tre gol e cinque assist un esterno di difesa molto offensivo che potrebbe fare bene nel campionato italiano al centro con romagnoli ci potrebbe essere sai macan giocatore difensore centrale dello strasburgo 19 anni che sta facendo molto bene in ligan con 19 presenze fino a questo momento se ne parla davvero un gran bene a sinistra confermato teo hernandez anche se il minan sapete sta cercando altri profili vi abbiamo raccontato anche negli ultimi video di un profilo di un giocatore ucraino proprio suggerito da tassotti e dallo stesso shevchenko della dinamo kiev andiamo a centrocampo nel nostro modulo sappiamo che la difesa 4 un dogma per ragniche mentre poi potrebbe spaziare la davanti noi mettiamo due giocatori centrocampisti uno è ben a serre l'altro cup miners giocatore olandese di 22 anni della zeta alkmar che è seguito anche da alcuni club di premier league potrebbe essere lui a far coppia appunto al centro con che si invece destinato a uscire come contropartita magari per arrivare a qualche giocatore vedi meret o altri appunto e poi confermando il modulo di pioli i tre dietro la punta a destra castieco ma lì si può migliorare sicuramente ragnica avrà idee diverse abbiamo messo depol dietro la punta 25enne utinese con una possibilità di arrivare a lui con un prezzo inferiore rispetto alla situazione pre crisi secondo me depol è un grande giocatore che ha dei numeri eccezionali e può davvero consacrarsi è già comunque nel giro della nazionale argentina a sinistra invece rebic e là davanti come punto di riferimento jovic in attesa di capire che cosa succederà su ibra jovic è un giocatore che piace piaceva già a gennaio quest'estate il real potrebbe farlo partire magari con la formula del prestito con diritto di riscatto in modo di pagarlo poi un po meno rispetto al prezzo con cui verrebbe via tra virgolette quest'estate ricordiamo che il real un anno fa l'ha pagato 60 milioni di euro questo è l'undici ovviamente aggiornato al fine di aprile che è destinato a cambiare però è un'idea un giochino che so piace anche a voi amici che in questo momento lontano dal calcio lontano dal milan amate sognare e pensare un po a quella che potrà essere la prossima stagione scrivete i vostri commenti qui sotto ditemi un po il vostro pensiero là davanti sono giocatori comunque che possono far partire il pressing offensivo tanto caro a ragnic a me piace molto questa formazione diciamo che abbiamo messo sai mccali in difesa ma potrebbe arrivare un profilo un po più esperto o comunque essere confermato chi ha er per il resto comunque le linee guida sono queste di una squadra molto molto giovane con ingaggi bassi da valorizzare per poi insomma far crescere il livello collettivo della squadra magari rivenderli anche un domani questa è la situazione grazie ancora iscrivetevi al canale aspetto i vostri contributi ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti